Il Covid non ferma la tradizione, viene premiata l'artigianalità e l'attenzione dei prodotti, rilanciando il Made in Italy. Valori al centro della famiglia Mangione, che ogni anno celebra il panettone. Il forno Spiga d'Oro Bakery è un panificio, un centro di dolci e di specialità elementari, che per questo Natale 2021 ha lanciato delle nuove specialità, dal panettone classico a quello al pistacchio, dal moncerì alla Nutella. Oltre a quello Kinder, ai tre cioccolati, quello Rocher, al cioccolato, rum e uvetta, fino a quello italiano classico. Simone Mangione. L'azienda da qualche anno ha iniziato a vendere anche nei mercati esteri e ci attingiamo a crescere anche nel 2021 con un più 27% rispetto agli anni passati. Questo perché crediamo molto che nel valore di un'azienda che crei un buon prodotto, il buon prodotto deve essere collocato sia in termini qualitativi della produzione, quindi un prodotto dall'altissimo valore artigianale, dall'altissimo valore qualitativo, ma intorno a un'azienda che abbia una struttura organizzativa di altissimo livello, tanto quello che è il valore del prodotto che andiamo a proporre e vendere. Burro, vaniglia, canditi, uvetta e uova vengono impiegati nella realizzazione del panettone, secondo Spiga d'Oro Bacheri, ai quali si aggiungono la passione e la costanza.